Entra nel mondo di Comicsmania, il nuovo store online affiliato ad Amazon dedicato agli amanti dei fumetti, manga e action figure. Vasta selezione, scopri un'ampia gamma di fumetti e manga dei migliori editori, con novità in continuo aggiornamento. Top di gamma, trova solo il meglio delle action figure dei tuoi personaggi preferiti, con dettagli curati e alta qualità. Esperienza di acquisto facile e veloce, naviga il nostro sito intuitivo e sicuro, trova i prodotti che cerchi in pochi clic e ricevili comodamente a casa tua. Affiliato ad Amazon, approfitta della garanzia e dell'affidabilità di Amazon per i tuoi acquisti online. Spedizioni rapide e sicure, ricevi i tuoi ordini in tempi brevi e con la massima cura. Comicsmania, la tua passione, il nostro potere.